E' il momento del nostro approfondimento, senza impresa non c'è Italia. E' questo lo slogan che farà da sfondo domani ad una manifestazione di piazza che vedrà fluire a Roma, piazza del popolo, diverse categorie produttive. Sera, ben trovato a Solchessi, che è il presidente della Confartigianato del Lazio. Buonasera a Danilo Martorelli, presidente della CNA del Lazio. Ben trovati, cominciamo. C'è chi l'ha rinominata alla nuova marcia dei 40.000, per ricordare quella che nel 1980 portò in piazza i quadri Fiat a Torino. Unica differenza, quella che si ritroverà domani in piazza del popolo a Roma, sarà decisamente più eterogenea. Artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, insomma dai colletti bianchi alle giacche blu, tutti riuniti sotto la sigla di Rete Imprese Italia. Una manifestazione che, ancora una volta, denuncia come la crisi abbia duramente colpito soprattutto le piccole realtà imprenditoriali. Mille le chiusure al giorno negli ultimi cinque anni, con fallimenti e concordati aumentati del 12% nel primo semestre del 2013. Tra le difficoltà più stringenti vi sono le spese di gestione e le lungaggini nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione. Basti pensare che nel periodo 2008-2013 il costo dell'energia elettrica per le piccole imprese è aumentato del 21%, il carburante nella stessa forbice ha visto un'impennata del 23% e i tempi medi di pagamento delle pubbliche amministrazioni è cresciuto di 35 giorni. Poi c'è il monstrum della burocrazia a fare il resto, costando alle PMI ben 30 miliardi di euro l'anno. Il bilancio della CGA di Mestre è dei più neri, se si fa la differenza tra imprese nate e chiuse dall'inizio della crisi, mancano all'appello 134 mila realtà, 64 mila nel commercio e 70 mila tra gli artigiani. Ecco Martorelli, facendo a questo proposito direi un po' di escursus storico, come siamo arrivati da un momento storico, anche pensiamo al boom economico dell'Italia anni 60, in cui veramente la piccola e media impresa, l'artigianato, il commercio sono state un po' la spina dorsale di quei grandi risultati economici ottenuti dal Paese, 40 anni, 50 anni dopo arriviamo a parlare di mille chiusure al giorno. Come ci siamo arrivati? Io penso che il ragionamento vada fatto su come è stata concepita la politica industriale di questo Paese, che ha sempre prestato molta attenzione a quella che è la grande impresa, che è l'industria, che in Italia è stata sempre molto, come dire, chiusa in se stesso, non con grossi legami internazionali e dunque non espansa anche in anni passati e io mi ricordavo proprio ieri gli ultimi incentivi per un certo tipo di industria che oggi in Italia non esiste più, quella meccanica in pratica non esiste più o sta chiudendo. La famosa rottamazione, perché adesso va di moda l'automazione politica, però c'è stata anche una rottamazione legata alle automobili. Dunque noi abbiamo pensato che l'Italia potesse avere un futuro con una grande impresa che non è esistita. Non è stata fatta attenzione a quello che era tutto il tessuto produttivo di contorno, fatto di artigianato, fatto di commercio, fatto di servizi. Se noi pensiamo che gli addetti nella piccola e media impresa sono circa 14 milioni, di cui 9 milioni sono gli occupati dipendenti, ci rendiamo conto di quanto importante sia questa tipicità assolutamente italiana. Siamo abituati a ragionare di un mondo in cui sostanzialmente forse imprese e lavoratori sono state sempre un po' da due parti diverse della barricata, non dico nemici ma insomma con forti motivi di scontro. Siamo in una fase adesso in cui paradossalmente questa divisione anche ideologica deve essere superata in nome di una crisi che coinvolge tutti. Ma assolutamente sì, anzi c'è un ragionamento sulla proletarizzazione della piccola impresa dove l'imprenditore artigiano sta a fianco di uno, due, tre dipendenti e ha tirato la cinghia in questi ultimi anni in maniera assolutamente incredibile, cercando di non licenziare, cercando di tenersi in piedi con una serie di difficoltà pesantissime, l'accesso al credito molto difficile e molto costoso, con la tassazione pesantissima. Noi nel Lazio abbiamo calcolato che abbiamo sull'utile circa un 70% di tasse. Quali sono le specificità che la CNA si sente di segnalare proprio di quel segmento produttivo? Guardi, è una domanda molto interessante, nel senso che ormai le necessità delle imprese sono abbastanza trasversali. Prima c'era una netta divisione fra quelle che erano le esigenze dell'artigianato, del commercio, della piccola e media impresa. Ormai con come funziona questo Paese, le necessità di queste categorie che prima erano abbastanza eterogenee sono le stesse. Un costo del lavoro che è molto pesante per tutti quanti, una burocrazia che è inarrestabile, una pressione fiscale, torno a ripetere, pesantissima. Proprio facendo quasi la giornata tipo di un artigiano, di un piccolo imprenditore? Sono d'attordo con lei che rappresentare le difficoltà, le vicissitudini, le angosce che vive quotidianamente un artigiano, un piccolo imprenditore, un commerciante, colui il quale si dedica ai servizi è estremamente difficile. La rappresentazione è difficile perché se non si entra in questo meccanismo purtroppo perverso di interlocutori che l'imprenditore, il piccolo imprenditore ha, non si riesce materialmente a capire. Allora i fronti sono tanti perché c'è un fronte rappresentato dal committente che può essere pubblico o privato e lì c'è il problema ad esempio dei pagamenti e questo è un primo aspetto. L'altro aspetto appunto è il rapporto con le istituzioni, con la burocrazia, estremamente complesso per i vari punti sia di rappresentanza istituzionale che per le varie competenze. Abbiamo enti in gran quantità e poi abbiamo anche il fronte interno che è quello dei nostri collaboratori, dei dipendenti che risultano abbastanza poco soddisfatti in relazione a quello che è uno stipendio, io dico a volte congruo, a volte misero, in relazione a quello che l'imprenditore paga. Si è parlato tanto di cuneo fiscale ma mi pare che il problema non si sia mai risolto. E fra Cordo Martorelli il credit crunch, diciamo così detto, è la priorità delle vostre richieste? Io concordo con il collega e con l'amico, è da tirare alla monetina per riuscire a capire qual è la priorità. Sono tutte e tre importanti. Il credito per puntellare un'impresa che molto spesso ha crediti e deve pagare velocemente i debiti. La pressione fiscale è un altro peso che diventa sempre più insostenibile essendoci poco lavoro. Il cuneo fiscale è un altro problema importantissimo da risolvere perché meno soldi vanno ai dipendenti, meno soldi circolano, meno acquisti vengono effettuati e dunque l'economia si inceppa. Sicuramente per il piccolo imprenditore che ha un rapporto ad personam con il dipendente e molto spesso l'artigiano, molto spesso sempre l'artigiano è in trincea col dipendente. Dunque il fatto che c'essi un rapporto di lavoro per difficoltà oggettive ed obiettive è sicuramente un grosso handicap per il piccolo imprenditore e per l'artigiano perché tra l'altro il dipendente in queste piccole aziende è una ricchezza, è una risorsa e dunque la perdita di un dipendente oltre che un fatto emotivo è sicuramente anche un problema di natura produttiva. Stiamo perdendo tutta una serie di lavorazioni molto tipiche, molto italiane, molto particolari perché non c'è da una parte di cambio e dall'altra il costo del lavoro è così pesante che non può essere sostenuto facendo una produzione, un artigianato o una produzione di nicchia. Questo scendere in piazza da parte delle categorie produttive non è un fenomeno frequentissimo anche se che si citava una manifestazione di un anno fa. Può essere definito da un certo punto di vista un evento storico? Quello di domani secondo lei qualcuno l'ha scritto? Sicuramente, sicuramente perché torno a ripetere trasversalmente interessa più categorie, interessa più associazioni che si sono riuniti per non dare appunto una sensazione di mucillaggio perché il problema del nostro paese forse è che abbiamo sempre un po' guardato molto ristrettamente non facendo sistema anche a livello di piccole imprese. Allora appuntamento domani in piazza, piazza del popolo con la manifestazione indetta da Rete Imprese Italia, grazie a Solchessi, presidente del Confartigianato del Lazio, grazie a Danilo Martorelli della CNA. Grazie.